giù il cappello al nostro ex capitano ciao Samir oggi arriva il saluto ufficiale di Samir Andanovic che ci lascia dopo 11 anni io sono uno di quelli che lo posso salutare veramente con il cuore in mano perché sono uno di quelli che l'ha sempre difeso sempre difeso qualche volta anzi spesso prendendomi anche le critiche della maggior parte ma sono stato sempre dalla sua parte io faccio un grande saluto un grande in bocca al lupo a Samir Andanovic non so quale sarà il suo futuro se continuerà a giocare non so dove se intraprenderà una nuova carriera magari come allenatore magari come dirigente questo non lo sappiamo però l'unica cosa che posso fare e credo che noi interisti dobbiamo fare è ringraziare questo portiere che per 12 anni ha difeso la nostra porta e che per diversi anni ha anche indossato degnamente degnamente sottolineiamo la fascia da capitano Samir e Andanovic approda all'Inter nell'estate 2012 per sostituire un mostro sacro della porta dell'Azzurra e sto parlando di Julio Cesar ebbene Andanovic questo ruolo di sostituire Julio Cesar non l'ha mai fatto pesare con questo non voglio dire che Samir era a livello di Julio Cesar perché secondo me Julio Cesar era ancora superiore ma che Samir nei suoi anni d'oro sia stato uno dei migliori portieri al mondo questo non glielo toglie nessuno e il fatto che nei suoi anni migliori lui lui sia rimasto all'Inter in quell'Inter penosa a me mi ha conquistato perché in quel momento in quel periodo Samir avrebbe potuto andare ovunque al Barcellona al Real Madrid al Bayern di Monaco le offerte le aveva le aveva non mancavano i club che lo volevano lui ha sempre deciso di restare all'Inter una volta approdato all'Inter lui non se ne è andato mai più certo per un portiere del suo livello sicuramente ha vinto poco ha vinto poco perché purtroppo è capitato nell'Inter nel periodo sbagliato ma poi negli ultimi anni si è rifatto un po' si è rifatto con lo scudetto di Conte con le coppe di Inzaghi le due coppe Italia le due supercoppe insomma qualche trofeo sul finale di carriera l'ha vinto e nessuno più di lui se lo meritava per tutto il suo trascorso quindi io posso veramente solo ringraziare questo portiere poi sapete io ho un debole particolare per i portieri per chi ricopre il ruolo del portiere e infatti spesso mi capita che mi ci affeziono al portiere dell'Inter così come mi affezionai a uno Cesar che quando se ne andò quando lesse quella lettera davanti San Sino Stracolmo contro la Roma ero qui sul divano a piangere oggi per Samir non piango ma il cuore mi piange che comunque ci saluta è stato comunque un simbolo in questi 12 anni e dicevo ho un debole per il ruolo del portiere perché il portiere fondamentalmente è un uomo solo in mezzo al campo nella gioia e nel dolore quando la squadra fa gol i compagni chi è che vanno ad abbracciare quello che ha fatto gol e il portiere esulta da solo quando il portiere sbaglia e al 90 per cento quando sbaglia il portiere fa subire gol deve combattere con se stesso magari ci sono i compagni che ti consolano ma tu devi continuare a giocare devi combattere con te stesso fare il portiere non è come fare gli altri ruoli perché magari l'attaccante il centrocampista il difensore può anche sbagliare ma magari non si nota perché qualcun altro rimedia quando sbaglia il portiere è gol è gol quando sbaglia il portiere per cui per ricoprire il ruolo del portiere ci vogliono le palle per fare il portiere dell'inter ci vogliono le palle al cubo quindi io a quest'uomo lo posso ripeto soltanto ringraziare tra l'altro è un tipo di persona che nel quale io mi rispecchio tanto perché perché è un leader silenzioso parla poco fai fatti a me queste persone piacciono me non piace chi parla tanto chi fa il buffone eccetera eccetera invece la gente come samir testa bassa e lavorare poche dichiarazioni nelle interviste quando gli fanno delle domande lui risponde ma risponde sempre a tono senza dilungarsi in discorsi astrusi quindi veramente grazie samir ha indossato questa maglia degnamente l'hai onorata come deve essere onorata la maglia nero azzurra ma soprattutto dopo aver zanetti posso dire che ha indossato questa fascia questa fascia in maniera in maniera degna quindi grande grandissimo samir andanovic ti rinnovo gli auguri per il tuo futuro e niente i tifosi interessi sicuramente ti sono grati ma io non dimentico che una buona parte soprattutto in questi ultimi due barra tre anni ti ha sputato troppo veleno addosso anche quando non c'entravi nulla cioè ti avevano identificato come il nemico come colui che avesse fatto chissà quale tragedia un accanimento che io non ricordo contro nessun giocatore dell'inter forte perché che ci sia accanimento che poi l'accanimento è sempre sbagliato ma che ci sia contro un giocatore non all'altezza come gagliardini è sbagliato l'accanimento ma lo posso capire ma che ci sia contro un portiere che per anni per anni ci ha salvato il culo per anni ha indossato degnamente la fascia da capitano io questo non lo riesco a capire e non lo capirò mai quindi i tifosi come me che l'hanno sempre sostenuto oggi lo salutano col cuore gli altri che spesso l'hanno denigrato gradirei che non vi fosse ipocrisia salutatelo ringraziatelo ma non con il cuore in mano perché non avete meritato questo saluto andanovic ha meritato la maglia dell'inter ma tanti tifosi non hanno meritato andanovic ciao